L'anno passato e quello in corso sono stati pesantemente condizionati dalla pandemia ma si intravedono segnali di fiducia anche grazie alla campagna vaccinale e quanto emerge dal rapporto relativo all'economia dell'Abruzzo presentato dalla Banca d'Italia. Alcuni settori sono più penalizzati, quello dei servizi con il turismo, il commercio e i trasporti. Il PIL è diminuito dell'8,6% la caduta del prodotto è stata ampia nell'industria, ha colpito soprattutto le piccole imprese, ridotte le esportazioni, anche se si sta registrando una ripresa con aspettative positive per il futuro. Il settore delle costruzioni è stato condizionato meno rispetto ad altri, è aumentata la domanda di credito. La pandemia ha peggiorato anche il quadro occupazionale per giovani e donne. Nei primi quattro mesi del 2021 però c'è un dato positivo, sono riprese le assunzioni a tempo determinato, i redditi delle famiglie sono diminuiti del 3% c'è stata una marcata riduzione dei consumi di circa l'11%, le famiglie hanno risparmiato, aumenta però il clima di fiducia. Nel 2020 prestiti alle imprese sono tornati a crescere, la quantità dei credito non è peggiorata. Il numero delle banche in Abruzzo è rimasto invariato, si è ridotto il numero di sportelli con più servizi online. Un altro aspetto positivo può riguardare il clima di fiducia delle famiglie. Il reddito delle famiglie è diminuito molto ovviamente a causa appunto della crisi, anche se è stato sostenuto dai provvedimenti del governo. Pensiamo all'eredito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, il reddito di emergenza e qui i consumi sono diminuiti ancora maggiormente rispetto al reddito però abbiamo visto anche questo negli ultimi tempi proprio che il clima di fiducia sta migliorando. Quindi come diceva lei grazie alla campagna di vaccinazione e alle aspettative di ripresa diciamo che ci sono dei segnali positivi che emergono. Un capitolo a parte la banca lo ha dedicato alla digitalizzazione. L'Abruzzo è molto indietro e durante la pandemia il lavoro agile si è rivelato più diffuso tra le aziende che avevano già investito in questo campo.